Lei Ortolani presenta a Lucca Comics 2018 un graphic novel, un romanzo a fumetti nato da un personaggio apparso da una costola di Ratman che è Cinzia. Un graphic novel, cioè un romanzo a fumetti, che differenza c'è con la serie di Ratman? La differenza forse, non so, di livello, chi lo sa, magari che con Ratman si ride e basta. No, non è vero neanche questo, non c'è nessuna differenza, ha soltanto la copertina rigida ed è grosso, sono tante pagine e il fatto è che è una storia unica che la può leggere chiunque che non abbia anche conoscenza di Ratman o della serie o di Cinzia stessa, insomma, per cui la differenza è che è autoreggente. Cinzia è un personaggio particolare, che ha una storia particolare e puoi utilizzare questa occasione per dare un annuncio e questo annuncio spiega anche molto di Cinzia. Questo libro è stato letto dal MIT, che non è appunto il Massachusetts Institute of Technology, ma è il Movimento Identità Trans, è piaciuto, è stato approvato, lo presenterò poi a Bologna con loro a dicembre, adesso non mi ricordo bene la data, credo che sia il 3, ma comunque la metteremo sui social, e parla infatti della storia di questa donna transessuale, è una storia però normale per me e questo spero che spieghi tante cose a chi la legge. Diciamo pure che è normale, ma tu che prendi in giro tutti i personaggi ti permetti anche, giustamente, di prendere in giro anche Cinzia. Ma sì, perché nella vita un po' di autorionia funziona sempre e salva tante situazioni, per cui anche quando uno dovrebbe essere invece no, perché io ho diritto, e poi pensa un attimo a se stesso e dice ma sì, però in fondo, ma sì, un po' di morismo ci vuole sempre.